ALEXTER, SONO LA BASE, DIMMI. 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 ALEXTER, SONO LA BASE. ALEXTER, SONO LA BASE. SONO LA BASE, DIMMI. SONO LA BASE, DIMMI. SONO LA BASE. SONO LA BASE, DIMMI. SONO LA BASE. SONO LA BASE, DIMMI. SONO LA BASE, DIMMI. SONO LA BASE. SONO LA BASE, DIMMI. 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 C'è americano? Inglese. E sembra che abbiamo un amico comune. Dove è il centro di comando? Non rispare! Che è qui bisogno? Pagani! Se si usi che cosa senza ключa, se si usi rispondono, e il centro si usi una conoscenza. Ma che cosa? Ci siamo qui salvati la scuola e la mochina. O che vuoi? O che vuoi? C'è l'ingresso, il codice è capo 1-8-7-9. Grazie. Vazio lai ti minunaci. Non so di che diavolo stavate parlando, ma credo che il cancello al quale hanno accennato si trovebbe avanti. Venti, questo è un po' di facilità valitosa, no? Granata! Del sogno a tiro! Uccidetela! E' avvito, faratemi! Foto satellitari! Abbiamo già avvito! Il laboratorio non sarà visibile dall'alto, ci servono delle mappe. Ci siamo. Una bella scampagnata. Non andrò a piedi, c'è un treno militare che passa vicino al laboratorio. Sembra che Amanda mi stia precedendo, devo muovermi. Ups, il satellite mostra che il tuo treno sta per partire, faresti meglio a correre e veloce! È la tua! Distraetela! Scusate! L'avete vista? Corrersi, muoversi! Avviciniamoci! Azzerciatevi! Fatela fuori! Sta partendo! A mezzo adesso non lo so, non reperterai il treno! Svelte allora! Non permettereci malare in fronte di te! Lascia perdere il treno! A una, a una, a una! Cosa è stato? Che succede? Stanno sganciando i vaticos! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, baby! Fallo ancora! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.